Tre serate di buona musica alla Rotonda Diaz organizzate dal Comune di Napoli per l'estate cittadina. Tre concerti a ingresso libero dedicati ai napoletani rimasti in città e ai numerosi turisti italiani e stranieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto a Napoli facendo registrare ancora un incremento di presenze rispetto allo scorso anno. Si parte venerdì 14 con i ritmi del reggae di Valerio Iovine che interpreterà fra gli altri i suoi nuovi brani Parla più forte e O Reggae Maradona. A Ferragosto sarà in scena Tullio d'Episcopo e la New Band con un concerto che celebra i 50 anni di attività del percussionista napoletano. Domenica 16 Femmina Mediterranea, concerto a tre voci con Barca Bentaleb, Monica Sarnelli e Francesca Marini in una tessitura mista di vocalità partenopea e sonorità magrebine. E mentre in villa comunale sono partiti i lavori per il recupero della cassa armonica è stata approvata questa mattina dalla giunta comunale la delibera per lo svolgimento della quinta edizione del Pizza Village dal 1 settembre sul lungomare Caracciolo.